bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale di pannocchia company con questo nuovo video oggi in questo venerdì abbiamo il nostro canonico appuntamento con le versus e quest'oggi si sfideranno i due deck neonettere e fratelli aculei deck neonettere uscito completamente nell'espansione bt05 mazzo abbastanza budget per tutti ma che comunque performa abbastanza decentemente mentre invece il deck dei fratelli acule è uscito un pochettino in bt1 ma diciamo che la maggior parte è uscita in bt2 e ora con extra collection 1 ci saranno delle novità comincia la partita e inizia renna che schiera il suo 8 mila ignorante passa il turno tocca marco che invece non riesce a trovare un grado 1 decente ma schiera una perfect va ad attaccare e infligge un danno renna renna convoca un bracchi in vanguard questa unità è una unità appunto di fratelli aculei che è molto forte in certi deck soprattutto in quei deck che non utilizzano in maniera consistente l'anima perché gli permette di fare degli attacchi molto molto importanti infatti viene utilizzato spesse volte anche in deck ora con gli esperti marco utilizza l'effetto dell'allenatore meccanico l'effetto è praticamente identico a quello di con raw quindi va a pagare un contrattacco lo va a ritirare e cerca nel deck una carta in questo caso va a cercare l'ottomila ignorante di fratelli aculei schiera ora dietro al vanguard il dudley den una delle carte più forti di questo deck vedremo poi infatti cosa farà marco attacca e infligge un danno a renna tocca renna che convoca nel vanguard la fanciulla delle rose rampicanti il g3 insomma più forte per ora per non ettare e va a riempire il terreno con una colonna da 20.000 con la laurel e la nostra carta totem ovvero l'omino dei pop corn marco decida di non difendere subisce il danno dal twin drive di renna rivelando una cura dopodiché renna attacca con la colonna da 20.000 e infligge un danno tocca a marco che convoca nel vanguard il g3 forte ovvero il generale seyfried dopodiché schiera un gary gannon e va a creare una colonna con un juggernaut maximus infatti vediamo che attacca prima di tutto con il juggernaut maximus attivando anche la sua abilità quindi togliendo una carta dall'anima prende più 5.000 e diventa un 16.000 renna lo ma ovviamente alla fine dell'attacco questa carta va a rimischiarsi all'interno del deck marco attacca con il vanguard attivando l'effetto di dadley den quindi si paga 2 di contraattacco si mette una carta dalla mano nell'anima e si va a cercare una qualsiasi carta fratelli aculei dal deck e la si schiera in retroguardia si può cercare qualsiasi carta infatti vediamo che va a riprendere il juggernaut maximus che aveva appena rimesso nel mazzo per il suo effetto renna ovviamente non difende l'attacco e con il twin drive critico e un g2 quindi renna va a 4 danni ora va ad attaccare con il juggernaut maximus che è super altissimo di forza infatti ha un 29.000 infligge un danno a renna e va a rimischiarsi nel deck tocca a renna che va a completare la formazione del suo terreno mette un 8.000 in retroguardia dietro al vanguard dopodiché attiva tre volte l'effetto del popcorn quindi diventa un 10.000 e va ad attaccare attiva l'effetto dello starter di neonettere andando a cercare il grado 1 e rimischiando l'altro all'interno del deck attacca ora con il vanguard ma marco non vuole rischiare utilizza una sentinella e renna rivela una pescata e un'altra pescata quindi va a pescare due carte e la colonna della lore diventa un 30.000 infliggendo un danno tocca a marco che schiera un brachy in retroguardia va ad attaccare attivando l'effetto di brachy che è praticamente lo stesso del juggernaut maximus che abbiamo visto prima ma renna difende senza troppi problemi con uno scudo da 10.000 dopodiché va ad attaccare nuovamente con il vanguard attiva ancora una volta l'effetto di dudley den quindi va a cercare nel suo deck un altro juggernaut maximus e lo schiera in retroguardia renna ovviamente non vuole rischiare di subire il danno letale quindi utilizza una sentinella e marco a sua volta rivela dal drive una sentinella e un grado 2 attacca ora con il juggernaut maximus che è un 24.000 e renna utilizza tre scudi da 5.000 per andare a difendere l'attacco passa il turno al nostro giocatore di neonettere che va a sostituire il grado 1 dell'evoluzione dello starter con il nostro carissimo amico thomas di doppio critico il hey yo ananas va ad attaccare con il vanguard e marco utilizza la sentinella che aveva appena trovato ma renna va in doppio check rivelando un critico e una pescata e quindi marco concede la prima partita passiamo ora a questo secondo match di fratelli aculei contro neonettere e ovviamente inizierà marco poiché ha perso la prima partita inizia e va a convocare nel vanguard dell'8000 ignorante e passa il turno ovviamente non potendo fare altro renna inizia la partita nello stesso identico modo ma sposta il vanguard iniziale nella colonna laterale e va a schierargli dietro un grado 1 della sua insomma catena di evoluzione dei gene spara il primo danno sul della retroguardia mentre invece il vanguard marco lo subisce e rivela una pescata tocca a lui va a convocare nel vanguard un brachy dopodiché lo vediamo che va ad attivare l'effetto del dell'allenatore meccanico e va a cercare questa volta anziché un supportino una bella perfect non va a schierare altre retroguardie in campo va subito ad attaccare con il vanguard infliggendo un danno e rivelando nel drive un'altra perfect quindi avrà due perfect in mano teniamolo bene a mente renna invece va a convocare nel vanguard un cavaliere iris 10.000 ignorante e schiera un altro brachy a sua volta di cui attiva anche l'effetto quindi sarà un 14.000 marco decide di subire il danno e ovviamente il brachy di renna va a rimischiarsi all'interno del deck dopodiché va ad attaccare con il suo vanguard marco decide di non difendere e renna non rivela nulla dopodiché con la retroguardia attacca nuovamente ma marco decide di non far evolvere il suo g0 e difende con uno scudo da 5.000 a una pescata va a convocare un generale Seyfried e a schierare un Dudley Den di cui attiva nuovamente l'effetto e va a cercare un Juggernaut Maximus che va a schierare in retroguardia Renna decide di non difendere l'attacco del vanguard e marco rivela un critico e qui dà gli effetti critici ovviamente al vanguard che stava attaccando e il 5.000 a Juggernaut Maximus che in questo attacco è un 21.000 Renna rivela una pescata durante il controllo del danno e pesca una carta va a convocare la fanciulla delle rose rampicanti in vanguard e pensa se andare a schierare altre retroguardie in campo vediamo infatti che sta pensando ma alla fine decide di non schierare altre retroguardie e va ad attaccare con il vanguard rivelando un grado 3 e un grado 2 mentre invece marco rivela un critico sull'attacco e l'ultima colonna di Renna non può attaccare marco utilizza l'effetto del critico di fratelli Akulei andando a metterlo nell'anima per recuperare e per stappare un danno infatti così potrà attivare nuovamente l'effetto di Dudley Den infatti va ad attaccare attiva l'effetto andando a cercare nuovamente un altro Juggernaut Maximus e Renna dovrà parare il vanguard e utilizza uno scudo da 10 e uno scudo da 5 quindi serviranno due inneschi eventualmente per far passare l'attacco il primo innesco è un innesco cura infatti marco vediamo che si cura di un danno e decide a chi dare il più 5000 lo dà al vanguard, ci crede e infatti ha fatto bene rivela un altro innesco cura questa volta non potrà curarsi però va a infliggere il danno aggiuntivo a Renna attacca con il Juggernaut Maximus che è un 22.000 ma Renna ovviamente per non perdere utilizzerà due scudi uno da 10 e uno da 5 per difendersi e ovviamente il Juggernaut Maximus alla fine dell'attacco va di nuovo all'interno del deck tocca a Renna che va a schierare in retroguardia solo una Lorel va ad attaccare ma Marco la difende difende anche con uno scudo da 10 l'attacco del vanguard ma Renna rivela un grado 3 e un grado 1 mentre invece decide a questo punto di subire l'effetto del gene G0 va a prendere un danno e Renna va a cercare il grado 1 e lo schiera in retroguardia Marco va a schierare un Bracchi in retroguardia dopodiché attacca con il Vanguard questa volta ovviamente non potrà attivare l'effetto di Dudley Dan perché non ha due contraattacchi liberi Marco rivela un grado 3 per effetto del generale va a schierare in retroguardia e un innesco pescata infliggendo il danno letale a Renna quindi questa partita viene vinta da Marco passiamo ora alla fase finale di questo best of 3 in cui inizierà Renna poiché ha perso la seconda partita vediamo che convoca nel Vanguard il Popcorn e va a passare il turno a Marco che va a convocare una sentinella e attacca subito immediatamente rivelando un innesco cura infliggendo ovviamente il primo danno a Renna Renna va a convocare nel Vanguard il 10.000 ignorante schiera un Thomas e una pescata va ad attaccare con la prima colonna infligge un danno il Vanguard rivela un grado 2 infligge il secondo danno a Marco Marco va a convocare nel Vanguard un Bracchi dopodiché va a attivare l'effetto dell'allenatore meccanico e va a cercare all'interno del suo deck una sentinella per rimanere un pochettino più parato nei prossimi turni schiera dietro al Vanguard il classico Dadaly Den va ad attaccare rivela un grado 3 e infligge il secondo danno a Renna che ovviamente ora va a risvegliare le sue unità convoca una fanciulla delle rose rampicanti e schiera un 10.000 ignorante che va subito ad attaccare Marco ovviamente non vuole prendere il danno utilizza uno scudo da 5.000 mentre invece non difende il Vanguard rivela un innesco cura e un critico quindi subirà due danni mentre invece la colonna di Thomas sarà bella bella spessa e cicciona e ovviamente per non subire il danno sarà costretto a utilizzare tanti scudi dalla mano infatti uno scudo da 10 e uno scudo da 5 Marco va a convocare nel Vanguard il generale Seyfried e fa la sua prima apparizione il tuffatore del cielo vedremo fra poco infatti che cosa sarà in grado di fare non utilizza Marco questa volta l'effetto dei Dadaly Den che ha troppe poche carte in mano ma va a rivelare un grado 3 che lo schiera in retroguardia dopodiché attacca con il tuffatore del cielo questa carta dopo che colpisce può andare all'interno dell'anima per andare a schierare un altro fratelli Akule in una retroguardia dalla mano molto forte per fare tanti tanti di attacchi tocca a Renna che va ad attaccare con il suo 10.000 ignorante di retroguardia e Marco utilizza uno scudo da 5 per difendersi attacca con il Vanguard e Marco non vuole ovviamente rischiare di subirsi il suo persona blast e va a utilizzare una sentinella dopodiché invece l'attacco dell'ultima colonna di retroguardia lo subisce e non si fa troppi problemi tocca ora Marco che va a pescare e attacca subito con il Vanguard ma questa volta utilizza l'effetto di Dudley Den va a cercare il Juggernaut Maximus lo mette in retroguardia e va a infilare una carta nell'anima dalla mano Ren utilizza uno scudo da 10.000 e uno da 5.000 per andare a parare l'attacco Marco rivela un innesco di cura vediamo ora chi darà il bonus di più 5.000 lo dà alla retroguardia non vuole fare il goloso come prima e infatti la seconda carta era un grado 3 che volendo avrebbe potuto schierare in retroguardia ma decide di non farlo va ad attaccare con il tuffatore del cielo e colpisce infatti utilizza l'effetto lo mette nell'anima e mette un'altra carta dalla mano ovvero un altro tuffatore del cielo che va ad attaccare dopodiché attacca con il Juggernaut Maximus sempre sul Vanguard e ovviamente Renna non vuole subire il danno letale e utilizza 3 scudi da 5.000 per andare a difendersi tocca ora Renna che va a schierare una Lorel grado 3 in retroguardia con cui va subito ad attaccare infligge un danno dopodiché attacca con il Vanguard e Mark utilizza uno scudo da 10.000 e uno da 5 quindi due per passare non passa però rivela un innesco di risveglio e va a risvegliare la Lorel che fa un attacco aggiuntivo ma Marco utilizza l'ultima carta che aveva in mano per difendersi da questo attacco tocca nuovamente a Marco che pesca una carta utilizza l'effetto di Dudley Den va a mettere una carta nell'anima e va a cercarne una dal mazzo ovviamente porta sempre fuori il nostro carissimo Juggernaut Maximus che abbiamo visto e rivisto più volte nel corso di questi tre match Ren utilizza due scudi da 10.000 quindi l'attacco non passerà abbiamo ora il primo check è un grado 2 il secondo è un innesco cura nuovamente si va a curare il ritorno a 4 danni e dà il più 5.000 al Juggernaut Maximus attacca ora con il tuffatore del cielo sempre sul vanguard dell'avversario questa volta però anche attivando nell'effetto non ci sarà una carta così importante sul terreno che andrà a sostituire questo tuffatore quindi sarà semplicemente un attacco da 11.000 Renna utilizza uno scudo da 10.000 per difendersi dall'attacco dopodiché attacca con il Juggernaut Maximus che ha un 21.000 e è costretto a utilizzare praticamente quasi tutte le carte che aveva in mano ma riesce a salvarsi da questi poderosi attacchi di fratelli aculei tocca a Renna che non schiera alcuna retroguardia va subito ad attaccare infligge il primo danno con la retroguardia il secondo attacco invece viene difeso da Marco utilizzando nuovamente tutte le carte che aveva in mano ma Renna diciamo che si salva un pochino rivelando un innesco cura Marco nuovamente fa la stessa mossa che aveva fatto il turno precedente quindi va a pescare una carta l'unica carta che ha in mano la va a utilizzare per effetto di Dudley den e torna fuori dal deck il nostro carissimo juggernaut maximus e ovviamente Renna dovrà difendersi al momento dall'attacco del vanguard utilizza uno scudo da 10 e uno da 5 Marco rivela una sentinella e un innesco critico quindi dà tutti gli effetti al juggernaut maximus che sarà in questo caso un 16000 più il suo effetto subisce il primo danno dal tuffatore del cielo e attacca con il juggernaut maximus infliggendo il danno letale